Envision TV, televisione e new media. On stage i nomi più importanti del lifestyle nazionale e internazionale al Palalpitour di Torino con Vella, che lancia in anteprima le tendenze e capelli primavera-estate 2018. Protagonista allo stile super creativo, Color Consultation è il titolo dell'evento e Color Consultation è il nuovo servizio di consulenza completa e personalizzata nei saloni Vella Professional. Uno strumento fondamentale per una consulenza colore dettagliata e su misura, che permette al parrucchiere di esprimere la sua massima competenza e professionalità. Perché una consulenza attenta e accurata è il segreto di un servizio colore perfetto. Color Consultation pone al centro la personalità e i desideri della cliente, per giungere insieme all'effetto desiderato e a un look unico e personalizzato. L'innovativa app Color Consultation e la sua avanzata tecnologia accompagnano l'acconciatore e la cliente attraverso sette step della consulenza. Intervista, morfologia, analisi cromatica, effetto desiderato, care, proposta del servizio, mantenimento a casa e nuovo appuntamento. Color Consultation avvicina la cliente al proprio salone e pone le basi per un rapporto duraturo e di completa fiducia. Una volta individuata la morfologia dominante del viso, triangolare, diamante, rettangolare, rotondo, quadrato, a cuore, il parrucchiere e la cliente scelgono le combinazioni cromatiche ideali per correggere, riequilibrare i volumi, armonizzare le proporzioni e ottenere l'effetto desiderato in un look unico che valorizza i punti di forza del viso. Il colore da sempre nel DNA di Bella è il grande protagonista dell'estate, ispirato ai trend colore più audaci. Quella di Bella è una storia di colore, una storia che vede al centro il viaggio e soprattutto l'esperienza che ognuna delle nostre consumatrici vuole vivere all'interno dei nostri saloni. Color Consultation è il tema che affrontiamo, il tema dell'anno e che vede proprio questo collegamento con anche proprio il trend della primavera estate 2018 che vede proprio l'obiettivo di andare a valorizzare l'unicità della persona e quindi andare a coglierla in tutti quelli che sono i suoi aspetti caratterizzanti. Nel 2018 abbiamo aperto questo meraviglioso anno non solo ovviamente abbracciando questo trend ma valorizzando una delle nostre linee insieme ovviamente a tutta quella che è la nostra famiglia. In particolare vorrei parlare di Color Fresh Create, queste 13 nuove referenze dal carattere molto creativo molto estroso che permetteranno appunto alle nostre consumatrici di dare questo tocco caratterizzante della loro personalità. Sono caratterizzate da un aspetto molto creativo estroso mantenendo però ovviamente quella che è l'eleganza del nostro brand che ovviamente rimane il nostro più grande obiettivo. Vella Color ma anche Vella Care dove per Creative Care Vella ha studiato prodotti capaci di esaltare i capelli aumentandone la luminosità e la brillantezza. Ispirandosi alla forza trasformatrice dei suoi sistemi Care, System Professional ha voluto ricreare la stessa sensazione in prodotti da usare su capelli asciutti. Tante sono le novità in casa Coty Professional Beauty, in casa Vella, in particolare nel Care abbiamo tantissimi brand quindi tante sono le novità ma oggi vorrei parlare di System Professional. Non è una novità ma è un focus importante, sicuramente un consiglio che vorrei dare a tutte le nostre consumatrici, la linea Solari. Siamo ancora lontani dall'estate ma è giusto arrivarci preparati. Abbiamo una linea dedicata all'estate con shampoo, balsamo, olietti e finish dedicati a chi parte per le vacanze. Quindi è fondamentale l'utilizzo di questo prodotto quando si espone ai raggi solari ma non solo, io le consiglio anche a chi fa sport, chi va in piscina soprattutto, utilizzare questa linea per proteggere i capelli. Alessandra, ci sono delle differenze per proteggere i capelli rispettivamente al colore e anche a quella che è la pelle della persona, tra il biondo e il nero? Ci sono delle differenze oppure comunque i solari sono sempre quelli? La linea di solari è la medesima per tutti, sono delle formulazioni che contengono proprio una protezione dai raggi solari piuttosto che dal cloro. Abbiamo delle altre linee di prodotti che possono essere dei finish, quindi sempre degli oli, delle mousse. Abbiamo proprio la nuova linea di styling, quindi di prodotti per la definizione del capello nel momento della piega che contengono degli ingredienti che vanno a creare una corazza di protezione sul capello in modo che permette di proteggerli dal calore. Quindi per chi usa tutti i giorni il phon, per chi usa piastra, consigliamo questa linea che permette di proteggere il capello e curarlo allo stesso tempo. Perché è proprio una formulazione che nel momento in cui si va a usare lo styling ci sono proprio anche in atto agenti curativi. Quindi il connubio di care e styling in un unico prodotto. E ora ha spazio ai guru del lifestyle, ecco Egidio Borri, artista del capello con una profonda competenza tecnica, stilistica che ama condividere il suo stile dirompente sul palco di grandi show e nella sua attività di formazione. Rock Angel è un progetto che ho dedicato agli angeli che non sono più qui con noi e alle persone che hanno tanta energia qui sulla terra. Dunque ho miscelato questo buono nell'anima, nel cielo e nella terra c'è un po' di diavoli che dobbiamo cercare di dare a loro un esempio di buon senso, di vita, di passione, di lavoro, di energia. Spazio agli acconciatori dello stile spiccatamente inglese e dei club si ispirano alla moda delle fashion week di tutto il mondo. Energia, rigore e dinamismo sono le parole base del progetto del gruppo guidato dal direttore artistico Tony Pellegrino. Oggi vi faccio vedere il velo che si usa per coprire, ma noi è per far vedere, quindi un velo trasparente. Sono degli intrecci semplicissimi, basta unire le sezioni tra di loro e quindi come vedete una tessitura molto semplice che si incrociano e poi con delle graffette di alluminio strette. Come deve essere una donna per essere figa, fighissima nella primavera estate 2018? Se stessa innanzitutto deve rispettare il suo codice di bellezza, farsi rappresentare da ciò che indossa e poi sicuramente per quanto riguarda i capelli, farsi consigliare dal parrucchiere che la interpreta meglio. Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, non poteva mancare all'evento organizzato da una delle maggiori beauty company esistenti. Il mondo, Cotica e In Globa, tra i tanti brand, Vella, con la missione di celebrare e liberare le diversità della bellezza dei consumatori. E non potevano mancare all'evento i VIP da Gerry Scotti, sul palco nella seconda giornata fashion, all'ex Miss Italia Eleonora Pedron, dalla modella Federica Nargi, all'ex campione di nuoto Filippo Magnini, dal volto noto della tv e voce radiofonica Rudy Zerbi, dall'attore di Beautiful Daniel McVicar, l'icona fashion Joe Squillo che si è occupata delle dirette nel backstage. I capelli come la nail art fanno tendenza, non seguono la moda ma la dettano e quindi oggi abbiamo visto come l'artigianalità, cioè il bello del saper fare bene con le mani e solo noi italiani lo sappiamo fare. Io giro tutte le fashion week di tutto il mondo e posso garantire che quando c'è qualcosa di wow dico chi è? È italiano. E quindi davvero sono tanti gli artigiani che lavorano e creano, costruiscono questa bellezza. Sappiamo che le tendenze sono anche un po' irregolari, cioè quindi un po' qualcosa di sbagliato, di un po' di autentico, anche perché bisogna trovare l'originalità di ognuno di noi. E allora il capello che ci avevano insegnato che va naturale, va elaborato con estrema naturalezza e anche usando dei colori a contrasto. Quindi queste sono le tendenze che poi ovviamente saranno poi elaborate per la primavera estate in modo particolare con l'effetto libertà. Che cosa vuol dire l'effetto libertà? L'effetto libertà è quando ti asciughi i capelli in modo naturale e vai in motorino. E quel splendido atteggiamento, attitudine di senso di libertà lo dobbiamo riportare anche nei nostri capelli. Gala Dinner, l'ingotto fiere di Torino, un evento cui hanno partecipato 6.000 persone. A tavola le firme più prestigiose della moda capelli e fashion insieme alle star e della tv a imprenditori e manager di alcune tra le più prestigiose. aziende internazionali. Dopo cena, in musica con Albertino, DJ e voce radiofonica del momento. E' un'esplosione di corso 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 Grazie a tutti.